Bene amici del Sonotech World, benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensiamo un prodotto della casa Aukai, noto brand, per la qualità dei suoi prodotti a prezzi davvero interessanti. Il modello in questione è uno speaker bluetooth multifunzione BT-023. Andremo a vedere velocemente il contenuto della confezione, parleremo un po' di specifiche tecniche e di come mi sono trovato con questo prodotto. E poi la cosa più importante, come riproduce la musica. Sì infatti vi farò sentire a volume sparato come suona questa cassa dell'Aukai, la BT-023. Prima a due metri e mezzo e poi passeremo a quattro metri e mezzo. Chiaramente a volume sparato per farvi sentire a volume massimo appunto la qualità di questo prodotto. Inoltre troverete il link in descrizione per acquistarlo su Amazon. Ad oggi costa circa 22 euro e qualche centesimo. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, mandiamo la sigla e poi torniamo sempre qua con la recensione. Sigla! Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere un attimino cosa comprende la confezione. Questa è praticamente la confezione che comprende cosa? Comprende un cavetto micro USB-USB per la ricarica del cassa e un jack da 3,5 sia da una parte che dall'altra. Praticamente è un cavetto AUX che serve per collegarla per esempio a dispositivi che sono privi di Bluetooth. Mi penso per esempio a una televisione. Eccola qui, questa è la cassa della UK, due altoparlanti da 5 Watt l'uno, batteria da 10.050 mAh integrata che garantisce fino a 8 ore di musica continua. La cassa perché multifunzione vi funge anche da viva voce. Infatti potete rispondere alle chiamate qui sopra il tasto per mettere in pausa o per rispondere alla chiamata. Non si può cambiare canzone, non si può andare avanti, non si può andare indietro. Qui sopra c'è il supporto, qui dietro abbiamo lo speaker bracket perché se è aperto praticamente vi farà rendere più stabile la vostra cassa. Infatti è impossibile praticamente ribaltarla, è praticamente impossibile. Andiamo a vedere ancora dietro, questo è un braccetto che poi si chiude all'interno della cassa. Abbiamo poi l'uscita AUX come vi dicevo, qui dentro ricaricherete poi la vostra cassa che ricarica circa 3 ore e qua c'è. Ma passiamo al video dove vi faccio sentire a 2 metri e mezzo e poi a 5 metri come suona questa OK BT-023. Adesso ci spostiamo ancora più lontano e vediamo come si sente. Ok ragazzi adesso vedete praticamente là in fondo la cassa, siamo a circa 4 metri di distanza. Vediamo come si sente a 4 metri di distanza. Vediamo come si sente a 4 metri di distanza. Ok ragazzi questa era la resa a 4 metri di distanza. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, scusatemi se ogni volta mi dilungo tantissimo nelle recensioni. E niente dai al prossimo video dalle Soundtech World.